Gestione freddo caldo nella prima giornata del Cervino Open. Chi si informa se mettere la termica sotto la divisa, chi soffre poco il freddo e sorride agli avversari. E raffica di birdie oggi, il campo è gentile e chi sa confezionare buoni approcci ha decisamente una marcia in più. I green vanno rispettati, sono piccoli e sempre pronti a far sfuggire anche i buoni pat. Ordi García del Moral scala la vetta del Cervino oggi, è quinto nel ranking dell'Alps Tour ed in cerca delle tre favolose carte di promozione. Gioca bene, è libero nello swing e intuisce sempre dove far battere la palla nel gioco corto. Per lui, meno 7. Anche Romain Guillon attacca, il francese sembra timido al record in gara, mentre è grintoso su ogni buca come un navigato giocatore da tour. Ma gli italiani si fanno vedere in massa. Ottimi gli scordi Edoardo Giletta, Federico Livio e Marco Guerrisoli, ma sono molti gli azzurri che hanno capito le 18 buche a 2000 metri. Anche gli amator si comportano bene e aggiungono esperienza nella sacca. Il loro è un gioco giovane e sincero, pronto ad attaccare nelle ultime due giornate. Giovedì, secondo round, si sa, è il moving day. Prepariamoci a cambi di classifica, prepariamoci al grande show. Swing your life!